ciao sono giulio di enepe questa sera vi propongo un dolce innovativo un semi freddo alle carote con il metodo life foster zero spreco alimentare a dopo ragazzi eccoci qua allora andiamo a far lessare le carote con lo sciroppo d'acero e un po di zucchero e 750 ml di acqua ok bene ora con le carote lessate e l'aiuto di un po d'acqua di cottura e il mini pime o utilizzatelo per macinarlo in questa maniera realizzare questa crema andiamo ad aggiungere i 125 di albume con i 50 di zucchero in planetaria e accendiamo la planetaria alla minima velocità ora andiamo a fare lo sciroppo di zucchero con lo zucchero rimanente e l'acqua e portiamo a bollore ora il nostro sciroppo sta bollendo a 121 gradi andiamo a versarlo a filo all'interno della nostra planetaria e alziamo la massima velocità fino a completo raffreddamento andiamo inserire adesso la polpa di carote all'interno della meringa montata la meringa italiana ok la andiamo a mescolare sempre dal basso verso l'altro e dopo di che andiamo anche ad aggiungere la panna montata a tra poco andiamo a finire il nostro semifreddo versandolo con l'aiuto di una sacra poche all'interno di un bicchiere a piacere uno stampino quello che meglio credette andiamo a finire il nostro semifreddo abbinando poi le bucce delle carote leggermente caramellate con dello zucchero a velo in microonde alla massima potenza per due minuti le vado a prendere le vado ad agiare leggermente sulla la base del semifreddo finale la base finale vedete caramellate ok ok e per ultimo ed infine andiamo ad aggiungere un piccolo amaretto del nostro dolce che volendo uno o due amaretti chi preferisce lo può aggiungere all'interno dell'impasto dopo di che fate passare quattro ore e buon appetito dopo il frigorifero